ok ragazzi siamo nella terza parte di merenda insieme a voi oggi proverò per la primissima volta questo yogurt da bere mela e frutti rossi 100% frutta questa volta sembra più uno spot che è una merenda insieme a voi uno spot pubblicità già da lodo non si sente è un po si sente però un po forte ma solo l'odore madonna sembra cattivo però scusate sembra cattivo però è buono sì è buono però questo non so se l'ho assaggiato una volta mi sembra di sì però non mi ricordo ce n'è rimasto poco mi sa che è finito oh ecco qua che schifo ma che cazzo è madonna mi sa che è finito scusate raga però mi sa che è finito ma che cazzo è buonissimo la consistenza strana mi sembra di averla provata mi sembra di averla provata sta consistenza e bene ragazzi bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto noi ci vediamo ad un prossimo video ciao se non avete visto la mia reazione alla canzone alla nuova canzone di baby to shake gangsta life andatela a vedere immediatamente forse oggi ne farò altre ciao 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 ciao